prendila dai tirala ma non con le mani ma con i piedi bravo a mamma la tiria mamma puzzetta di qua andiamo a vedere la fontana guarda il nonno è andato a lavorare il nonno è andato a lavorare vuoi far vedere le scarpe? buongiorno allora ragazze benvenute innanzitutto in questo nuovo vlog io come avete visto sono stata stamattina e tutta la mattina che sono in giro perché poi ieri alla fine mio marito non ha lavorato quindi Marek stasera ha dormito di nuovo dalla nonna perché l'ho riaccompagnato a lavoro perché ieri l'ho accompagnato poi alle 4 e mezza poi alle 7 mi ha chiamato e mi ha detto guarda che noi stiamo tornando indietro perché diluvia quindi sono andata a riprendermelo ed è stato a casa con noi tutto il giorno ieri poi invece stamattina ho dovuto ritornare a lavoro quindi l'ho riaccompagnato alle 4 e mezza sono andata a prendermi Marek alle 7 poi alle 8 lui si è svegliato è vero e siamo andati a fare colazione al bar con zio Nico quindi stamattina ho sgarrato ma in questi giorni sto sgarrando un po' troppo infatti non ho perso più un etto tutta la settimana non ho perso niente però vabbè l'importante è che non sono ingrassata ci sta vieni vieni ogni tanto uno sgarro vieni ogni tanto uno sgarro ci sta non ho fatto vedere le scarpe le scarpe te le ho messe comunque sono andata a fare gnameria da mio papà e lui ha giocato con suo nonno con la palla io avevo il maglione addosso perché stamattina c'erano 13 gradi ragazze 13 gradi si moriva di freddo ora invece si muore di caldo lui vuole andare al parco quindi sono venuta a casa mi sono cambiata e adesso lo porto al parchetto è vero? sì andiamo e niente stamattina mi sono vestita così col pantaloncino che avevo preso al Lidl l'ho messo senza cintura anche se è abbastanza largo però tanto la maglia sopra non si vede e niente semplicissima andiamo al parchetto facciamo una passeggiata ho rigirato il tavolo come era prima e mi piace di più è inutile che sposto perché tanto poi rimetto sempre tutto in ordine in più oggi pomeriggio appena lui dormirà mi risposterò tutto il soggiorno e poi è al parco sono pazza lo so ma non mi comincia più così forse perché è tutto troppo disordinato e non mi dà fastidio agli occhi quindi fino a che non darò il bianco o il colore lo lascerò come era prima e poi si vede niente andiamo al parco andiamo al parco piano piano ragazzo noi siamo ritornati a casa al parchetto non ho ripreso nulla perché c'erano tanti bimbi e non voglio inquadrarli meglio di no e quindi niente non vi ho fatto vedere ma alla fine ho sempre le stesse cose stiamo già pranzando in realtà sono sì mezzogiorno e 35 a Mariko ho fatto la sua pasta col formaggio è vero che ti piace tanto? me la chiede sempre gliela faccio io sono già in disabilia bella comoda comoda e mi sono fatta la piadina con l'insalata la robiola due olive due olive ma ovviamente non ce n'è due ce n'è un po' di più olive e pomodorini niente ragazzi buona pittì ci vediamo dopo non ce n'è un po' di più non ce n'è un po' di più non ce n'è un po' di più Grazie a tutti. 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 E niente, così mi sembra tutto più lineare, più elegante, più normale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed effettivamente così ha più senso, è vero. Adesso poi rimettere a posto la penisola, la rimetto qua e niente, però lui, Marek, lì stava giocando, quindi gliela lascio. E' ritornato, è ritornato, è ritornato, è ritornato il soggiorno, è ritornato il soggiorno di prima. Iniziano a fare, adesso, iniziano, 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 adesso devo togliere quelli secchi e quelli rovinati, perché ieri ha diluviato e non ho fatto. dopo li sistemano per bene qui ho messo lo scaffale che prima era era dentro l'ho lasciato qui con il mio annaffiatoio lì c'è un vaso vuoto qui è vuoto e questa cena piantina qua questo un po morendo devo farla riprendere l'ho un po trascurata adesso poi la farò riprendere visto che già morta una volta morta mezza andata diciamo una volta e l'ho fatta riprendere per bene adesso mi metto lì e la faccio riprendere dove vai no sì certo come no andiamo dentro dai no quello è bianco allora fra poco arriveranno mio papà e mio fratello e gli ho fatto una pasta cioè in realtà devo ancora buttarlo ovviamente con pomodorini zucchine e olive nere e come primo poi come secondo gli farò penso delle scaloppine comunque vi faccio vedere allora ho messo su anche il secondo farò delle scaloppine al limone le sto sfumando col vino bianco le ho prima infarinate le ho fatte rosolare adesso le sto appunto sfumando col vino bianco poi andrò ad aggiungergli il limone le chiuderò e al massimo gli do una scaldata velocissimo prima di servirle qua bolle l'acqua butto la pasta ed è pronto l'acqua butto la pasta e al massimo devi fare la pipì vuoi un biscotto o un altro guarda che c'è tutta la bocca sporca devi fare la pipì non devi sei sicuro? non è che poi ce la facciamo sotto è per Marek vuoi un biscottino? no che biscottino vuoi? sono andati via sono andati via? di un po' chi è che è andato via? nono e anche? mio amico dai vieni che ti do il biscotto prendiamo lo sgabello? si come si apre l'acqua? si apre l'acqua beh allora perché l'acqua è forte? vieni cerchiamo il dentifricio prima lava mamma prima lava mamma poi li laviamo insieme dai apri la boccuccia dai che poi dopo li lava mamma insieme a te apri bene? no apri 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 sopra apri apri di qua anche qui adesso fa male dai che anche mamma si laviva insieme poi buttiamo meglio mamma poi? si cosa facciamo? io io posso fare adesso laviamo le manine posso giocare con la bocca? no non possiamo giocare con la bocca apri la piano apri la piano la 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 sprega 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 ecco qua faccio ok abbiamo schizzato tutto? si adesso scendi che ti asciughi le manine forza 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 marek chiudi l'acqua e viene ad asciugare le manine marek chiudi l'acqua la chiude mamma eh bravo viene ad asciugare le manine piano piano asciuga le manine bene 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 asciugale bene bene dai asciuga bene bene le manine ma la faccia anche la faccia niente bravo allora ragazze sono le 10 di sera mio padre e mio fratello sono andati via noi stiamo ancora guardando non se ne può più adesso abbasso tutte le tapparelle perché freddo comunque io le abbasso lo stesso comunque mi barrico dentro casa anche se c'è mio padre anche se siamo in 30.000 proprio una cosa una fissa che ho inverno estate non mi importa e adesso comunque chiudo tutto anche perché la notte finalmente sta facendo ma cosa fai? io salutare il pulcino dai tiralo su e vado a buttare vi dicevo la notte la notte sta facendo proprio freddo da coprirsi la cosa mi piace e da morire perché io odio il caldo ragazzi io non so se ve l'ho mai detto ma l'estate la eliminerei dalla faccia della terra se non fosse per le vacanze che quest'anno sono anche pochissime per noi solamente una settimana ma l'unica cosa che io amo dell'estate è andare al mare e vabbè certo le belle giornate ma il caldo la fa proprio è una cosa che non sopporto minimamente assolutamente comunque adesso chiudo tutto poi mi devo mettere al computer sperando che Marek me lo faccia fare perché oggi sono andata sono andata in comune per i buoni pasti di Marek per l'asilo aspettate che vi appoggio eccomi allora sono andata in comune per chiedere informazioni sui pasti della mensa dell'asilo mi hanno rilasciato questo foglio e mi hanno detto che bisogna fare tutto online quindi devo fare per forza tutto online adesso vado a vedere poi va in base all'ISE e cose varie mi sta telefonando mio marito aspettate niente scusatemi ma appunto come vi dicevo mi ha telefonato mio marito comunque devo fare tutto online ed è un po' una rottura perché pensavo che facessero tutto in comune che bastava portargli i documenti miei di mio figlio l'ISE e tutte queste cose qua invece in realtà devi fare tutto online e vabbè mi metterò lì con calma quando Marek me lo farà fare quando te no torna a letto dove hai letto interruzioni di Marek a parte noi adesso ce ne andiamo a Nanna provo a farlo dormire così magari appunto faccio quella cosa lì e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto come al solito pollice in su se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale non toccare ed attivate eccolo qua ed attivate la campanella per non perdervi i prossimi video se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram su Instagram sono sempre Chiaretta Alfredo io vi ringrazio ancora tantissimo per i 20.000 iscritti grazie e dobbiamo andare a letto dobbiamo andare a letto l'ultima cosa che volevo dirvi è che nell'altro video vi ho chiesto che video vorreste vedere per speciale 20.000 iscritti e ci sono mille mila pareri diversi cioè non ho trovato qualcosa insomma la maggioranza che magari dicesse scusa il mio amore un video un video che vince diciamo quindi avevo pensato visto che alcune me l'hanno chiesto di farvi un home tour visto che io non l'ho mai fatto l'home tour o meglio ho fatto i tour delle stanze ma mai l'home tour anche se non è terminato perché ovviamente sapete già benissimo che manca la cucina e bla 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 però magari vi faccio un home tour prima dei lavori in casa prima di terminare i lavori non so chiamiamolo come volete fatemi sapere se volete l'home tour altrimenti cerchiamo qualcos'altro niente ragazze quello è per Billy sì è il pupazzo del cane posalo niente vi mando un bacione buonanotte ci vediamo venerdì di ciao followings buonanotte 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 buonanotte